Marco Faccani, pilota dell'Onda San Carlo Junior Team, CIV Super Sport 600 Allora Marco, sei appena uscito dalla pista, come ti sembra questo weekend in cui ci sarà anche la gara doppia? Sì, vediamo di fare delle belle gare, per adesso non sono messo male, sono quinto nella Super Sport però sono solo liberi, si fa presto anche solo andare indietro, però dai, sono fiducioso, la moto me la sento abbastanza stiamo lavorando bene sui fraccio, sui modaggi ciclisti, dai, sono contento Perfetto, qual è il pilota o i piloti con cui ti confronti di più in pista? In pista, i primi in classifica, Griciani, Gensanti, poi i tamburini, i piloti che vengono dal mondiale e dai, speriamo di lottare con loro e di riuscire a fare quel piccolo step che ci porta là davanti per il pod Perfetto, direi che non scherzi allora Va bene, allora appuntamento sabato e domenica con le due gare, e in bocca al lupo Ok, grazie, ciao Grazie